Riprendere l'attività sportiva dopo la malattia è fondamentale perché bisogna riprendere a vivere e l'unico modo per riprendere a vivere è fare attività sportiva ed è importantissimo sia a livello mentale che a livello fisico. Il corso di Paddle Surf o Stand Up Paddle in acronimo SUP è la digitura usata per indicare questo sport praticato stando in piedi su una tavola da surf di dimensione maggiore dove ci si sposta utilizzando una pagaia in acqua. L'attuale campionessa italiana 2021-22-23 Angela Carbonara, paralimpica, paziente oncologico, istruttore di primo livello FISV con specializzazione in atleti con disabilità è esempio di come lo sport aiuti a ricominciare a vivere normalmente. L'attività nasce perché io per prima sono paziente oncologico e con Nick Di Fino abbiamo costituito un'associazione di volontariato che si chiama PH8, la salute è contagiosa e ci occupiamo del benessere del paziente oncologico ma lo facciamo in modo un po' differente rispetto alle altre associazioni. Io in prima persona proprio mi occupo dell'attività fisica dei pazienti oncologici dopo che hanno terminato la terapia, la chemio o la radioterapia. Cinque pazienti oncologici avranno la possibilità di iniziare un percorso gratuito presso il Custibari della durata di tre mesi il cui fine sarà portarli a prendere parte a piccole competizioni amatoriale o si spera anche agonistiche. L'obiettivo è portare questi pazienti poi a fare anche delle piccole gare amatoriali. Ovvio che se ci arrivano altre donazioni saremmo ben contenti di allargare il numero di pazienti e anche il numero di mesi per quanto riguarda il corso. Per noi sarebbe comunque una grande vittoria.